Diego Rosa ancora oggi in Maglia Azzurra e soprattutto oggi qui nella tua provincia di Cuneo, che sensazioni e che emozioni? Sicuramente era bellissimo arrivare in Piemonte con la Maglia Azzurra, ci siamo arrivati oggi, ci partiremo domani nella tappa di Torino che sarà una tappa di quelle belle esplosive, una sensazione magnifica, volevo portarla fino a qua, domani inizierà un altro giro si lotterà GPM per GPM, si cercherà di usare la testa per muoversi quando sarà ora e quando ne varrà la pena e vedendo cosa si riesce a fare per ottenere questa maglia Qual è il tuo bilancio finora del tuo giro? Finora in giro quando ero in fuga vedravo bene, per le resta dell'età che ho sempre stato vicino sono affortunati agli uniti della squadra cercando di insegnarli a muoversi o colpiavarsi aiutandoli a entrare nel fuga giusto e cercando di guidarli un po' no? dando consigli o altri quindi credo che sia una figura che serve nelle squadre e ormai ho la mia esperienza per fare anche questo Hai avuto modo di incontrare il tuo fan club che ti segue a noi? Arriveranno domani in serita